Audiofollia.it, informazione, servizi musicali professionali, produzioni creative. La rinomata cantante Mina ha appena lanciato Dilettevoli Eccedenze 2, un nuovo album che esplora perle e inediti dai suoi archivi. Tra le tracce, spiccano Abbandono in collaborazione con Saturnino, una versione bossa nova di La Palla e Rotonda, e una reinterpretazione di Malatia Napoletano. Il video di Abbandono, prodotto dallo Yomei Alab, offre rappresentazione fantastiche di Mina attraverso le diverse fasi della vita. Parallelamente, è stato inaugurato un nuovo sito web curato da giovani informatici, evidenziando la vasta carriera di Mina in televisione, radio e pubblicità. Il sito include anche una sezione discografia, articoli dalla stampa, Libera le Vene di Fea, e un e-commerce per i prodotti fisici e NFT pubblicati da PDU. Una fusione di estetica e musica che celebra la lunga e iconica carriera della leggendaria artista italiana. La rinomata cantante Mina ha appena lanciato Dilettevoli Eccedenze 2, un nuovo album che esplora perle e inediti dai suoi archivi. Tra le tracce, spiccano Abbandono in collaborazione con Saturnino. Una versione bossa nova di La Palla e Rotonda. E una reinterpretazione di malattia napoletano. Il video di Abbandono, prodotto dallo Yom AI Lab, offre rappresentazioni fantastiche di Mina attraverso le diverse fasi della vita. Parallelamente, è stato inaugurato un nuovo sito web curato da giovani informatici, evidenziando la vasta carriera di Mina in televisione, radio e pubblicità. Il sito include anche una sezione discografia, articoli dalla stampa, Libera le Vene di Fea, e un e-commerce per i prodotti fisici e NFT pubblicati da PDU. Una fusione di estetica e musica che celebra la lunga e iconica carriera della leggendaria artista italiana. Grazie a tutti! Grazie a tutti!